Una pila di pacchi natalizi lungo il viale, presepi nella maggior parte delle vetrine e nei negozi sfitti e la zona sud di Ricorso Video torna a vivere anche a Natale, sfidando la crisi. Sta già riscuotendo successo l'iniziativa dei commercianti della zona sud di Ricorso di Sulmona che hanno organizzato un concorso di presepi grazie all'aiuro delle scuole, delle associazioni e dei privati. Stop dunque alleleamente le sterili, prevale la voglia di fare, anche se il messaggio resta lo stesso. Qui ci siamo anche noi e Sulmona deve essere unita. Abbiamo pensato di fare anche per far vivere un attimino anche il momento del Natale dove appunto secondo noi il presepe è la rappresentazione più bella. E sono anche questi... Qualunque iniziativa che possa calamidare un po' l'attenzione della gente contribuisca a rivitalizzare questo tratto di corso che abitualmente per la mia esperienza che diciamo è anche abbastanza breve però la cosa che si nota subito è che questo pezzo di corso è un po' trascurato rispetto ad adesso. Quindi... Sono cannabis, iniziativa è che... collection la fiction. Come ha slotto委 iniziativa... E quindi